buongiorno ragazzi benvenuti a un nuovo video come premesso questo è il secondo video della settimana quindi sto mantenendo la promessa per la prima settimana di portarvi due video vi ricordo inoltre che ho aperto un canale twitch se volete passarci ci ho già messo il loghetto non streamerò magari uno di questi giorni per prova vorrei prendere l'affiliazione cioè tipo l'affiliazione di amazon e di amazon di twitch che è tipo devi streamare tipo 7 giorni avere 50 followers avere una media di 3 spettatori e non mi ricordo ti può streamare 8 ore quindi direi che è una cosa fattibile e vorrei prenderla ci sono dei vari vantaggi posso ottenere già se divento affiliato ovviamente il subscriber button quindi le persone si possono iscrivere anche gratis con amazon prime o pagando ci sono i vari tipi di abbonamento oppure dopo c'è tipo anche la pubblicità è una cosa molto più semplice secondo me prendere tipo è come se fosse una partner per youtube ecco soltanto che è molto più semplice prenderla poi c'è anche il programma partner di twitch però è un'altra cosa comunque mi sto perdendo troppo se volete seguitemi vi lascio il link in descrizione del canale twitch mi informerò quando andrò in live ok bravi pagai allora adesso io vi porto voglio continuare il format che stavo portando tipo a ottobre a dicembre delle 30 cose che non sai sono diventate 20 perché l'ho trovata 20 però niente voglio continuare anche quello perché è interessante e mi diverto a trovare cose quindi io direi di partire non perdiamoci in ciance e andiamo in questa illusione ottica ci sono 12 punti neri 4 nella prima riga 4 in questa e infine 4 nell'ultima riga ma come ti sarei accorto non riesci a vederle tutte 12 in contemporanea ma com'è possibile questa cosa? questo è dato dal fatto che a differenza di altri animali gli esseri umani non hanno una vista periferica cioè quella vista ai lati molto sviluppata perché non ci serve tendiamo quindi a prestare maggiore attenzione a quello che abbiamo davanti piuttosto che quello che abbiamo ai lati quindi questo è un limite del nostro cervello e vi sfido provateci a vedere tutti i 12 punti cioè non memorizzateli provate a vederli con gli occhi non ce la fate perché ci ho provato anch'io non riesco è impossibile nel mondo esistono solo 100 esemplari di Carlino Albino fa pure rima uno di questi si chiama Milkshake come potete vedere ha gli occhi chiari, azzurri e la pelle sì la pelle, il pelo molto chiaro tipo bianco quasi rosino questo è dato dal fatto che lui è albino l'albinismo è una malattia genetica in cui i soggetti che sono affetti hanno una carenza di pigmentazione sulla pelle che gli rende molto chiari i peli o la pelle nel caso uno o sia un umano o sia un animale Milkshake è tipo un influencer è diventato perché ha una pagina Instagram da più di 90.000 follower infatti collabora con varie aziende quindi guadagna soldi cioè chi gli gestisce la pagina quindi i loro padroni vi lascio questa foto bellissima con lui col maglioncino blu l'ho trovata bellissima quindi ve la beccate lo sapevate che la Coca Cola era un produttore di cicche? infatti tra il 1910 e il 1917 la Coca Cola incomincia a produrre chewing gum che contenevano pepsina e un enzima che aiuta la digestione poi dopo non so perché non le hanno produtte più forse perché è iniziata la guerra boh non lo so nel Midland in Michigan esiste una scuola un po' particolare dove si insegna come essere Babbo Natale va bene non dico niente ogni anno i posti sono tipo 200 cioè è molto strana questa scuola ma chi l'ha inventata è abbastanza serio a riguardo la scuola esiste dal 1937 cioè è vecchissima il corso si svolge in tre giorni e ci sono diverse attività ad esempio costruire cose di legno tipo oggetti ci sono corsi dove si canta e si balla le canzoni ovviamente sono in tema natalizio inoltre ci sono attività tipo make up dove ci si travesse da Babbo Natale se volete prenotatevi non so se lo facevate anche voi ma quando io ero piccolo tipo cadevano i denti da latte ovviamente li mettevo o sotto il cuscino o sotto tipo il piattino e lo mettevo vicino al comodino questo per farli prendere alla fatina dei denti in Grecia vogliono fare le cose un po' diverse invece sono particolari loro sentite cosa fanno loro quando perdono un dente da latte allora al posto che mettono sotto il cuscino lo mettono sopra il tetto della casa questo perché si pensa che così facendo il dente che crescerà sarà forte e sano non chiedetemi il motivo non l'ho capito neanch'io mettilo vicino al comodino perché devi metterlo sul tetto se cercate su google Florida Man con una data qualsiasi troverete una notizia di una persona che ha fatto un crimine in Florida ovviamente e il crimine è abbastanza da idioti e tipo così sembrerebbe ogni giorno c'è tipo un crimine diverso tipo magari correre nudo per strada non so se vi è utile come cosa però gli egizi usavano come contraccettivo la cacca dei coccodrilli qua non sapevo come dirla diversamente quindi usavano la cacca dei coccodrilli cosa devo dirvi questo bruco è in grado di digerire la plastica questi particolari bruchi sono chiamati bruchi della cera e sono stati scoperti da una scienziata italiana e questa è una scoperta abbastanza importante in quanto possono essere usati per smaltire la plastica quindi contro l'inquinamento della plastica che è molto diffuso dato che c'è tipo un'isola in un'oceano che è fatta di plastica cioè quindi il problema è abbastanza serio queste foto che vedi non provengono dai pianeti alieni provengono dalla terra quelli che vedi sono alberi ricoperti di neve di un botto di neve praticamente la neve si impila su questi alberi facendoli prendere queste forme strane perché in Finlandia c'è molto freddo e un botto di umidità quindi nevica un botto e l'umidità fa sì che si appiccichi su tutta la superficie dell'albero e il rinda quegli alberi tipo le faccia diventare queste forme strane l'emù e il kiwi sono due uccelli di tipo differente l'emù è un uccello molto alto è tipo alto 1,90 m potrebbe giocare a basket a livello professionale comunque mentre i kiwi sono alti di 45 cm sono piccolissimi entrambi depongono uova praticamente delle stesse dimensioni io ho paura per i kiwi cioè nel senso non si apre quando depone quell'uovo pensate un po' che l'uovo dell'emù a rapporto con la sua grandezza è solo il 2% mentre l'uovo del kiwi è grosso il 20% del corpo del kiwi quindi non rischia di morire ogni volta che fa un uovo grazie alla tomografia computerizzata mia, non scioglie lingue è troppo lunga si è scoperto che sotto la pelle del drago di Komodo c'è un'armatura a rete fatta di migliaia di piccole ossicine quindi deve essere tipo resistentissima in alcuni paesi asiatici è consuetudine quando si serve il caffè di servire anche lo zucchero filato e lo si mette sopra il caffè tipo si usa un'asticella dove si mette lo stecco di zucchero filato e pian piano lo zucchero filato si scioglie questo è ovviamente dovuto al calore del caffè che fa sciogliere pian piano lo zucchero filato che cade dentro la tazzina questa è l'ape avvoltoio la particolarità di queste api è che non impollina fiori e il miele non lo fa stanze vegetali ma lo fa con le carcasse degli animali cioè quindi usa la carne in putrefazione degli animali per fare del miele o una specie di miele non è proprio un miele a me fa già cagare il miele normale immaginatevi questo lo sapevate che il simbolo della pace quello famosissimo è stato creato dal alfabeto semaforico infatti si prende la lettera N che vuol dire nucleare in sostanza e la lettera D che vuol dire tipo essere disarmati disarmare questo sta a significare che la pace è uguale al disarmamento nucleare quindi la pace non vuole le armi nucleari e non vuole la guerra in generale comunque penso alcuni qualche anno fa si sono lamentati dalla bottiglia d'acqua di Chiara Ferrani che costava tipo 8-9 euro adesso non mi ricordo e diceva anche che costasse troppo in effetti però una bottiglia costa troppo cioè è troppo però io ho scoperto che c'è una bottiglia d'acqua che costa 55.600 55.600 euro non so se ci capiamo cioè diventasse popolare questa notizia uscirebbe il finimondo l'acqua di questa bottiglia è proveniente da uno dei ghiacciai dell'Islanda ma non è questo il motivo perché costa così tanto il motivo viene dalla sua bizzarra bottiglia è tipo una bottiglia fatta con una maschera cioè tipo una maschera ed è fatta interamente d'oro 24 carati quindi è proprio questo che costa tantissimo però se non volete spendere così tanto magari vi sembra troppo costosa c'è un'altra che tipo è fatta ad argento che costa 3.245 euro se invece non volete neanche spendere così tanto però c'è la versione economica economica che è fatta di cristallo e costa 264 euro io andrei avanti che è meglio grazie nello stato del Missouri ad un bracconiere che uccideva i cervi gli è stata data una punizione un po' particolare a parte un anno di carcere che ovviamente te lo fai il giudice ha detto che doveva ogni mese guardare il film di Bambi proprio perché lì c'erano i cerbiatti e veniva uccisa la mamma di Bambi è un momento abbastanza delicato io quando l'ho visto da piccolo ho pianto ho pianto molto la scalata più pericolosa al mondo si trova in Cina nel monte Haoshan che sembra il nome di un supermercato pensate un po' che alcune scalinate di questo monte hanno una pendenza di 90 gradi non fate battute alcuni scienziati hanno ipotizzato che la bandiera messa sulla luna durante l'allunaggio del 1969 a furie delle varie radiazioni ultraviolette che ha subito sia diventata totalmente bianca altri invece che sono quelli che negano il fatto che l'uomo sia andato sulla luna sono dei verigeni ovviamente non hanno di questi problemi il mantello dell'invisibilità di Harry Potter in realtà non è trasparente ma era verde verde acceso infatti in questo film viene usata una tecnica particolare neanche troppo che si chiama chroma key comunque viene usata molto per gli effetti speciali anche e viene usata anche molto dagli streamer per togliere appunto quello che hanno dietro il primo video su youtube a raggiungere il milione di visualizzazioni fu quello di Ronaldinho con Nike era uno sponsor e raggiunse un milione di visual non so cosa dire fu caricato nel 2006 quindi 14 anni fa quanto passa il tempo il video è finito spero che vi sia piaciuto se si mettete like noi ci vediamo a un prossimo video bella raga da Fede ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch I'm trattino I'm trattino Fede vi voglio numerosi magari poi quando faccio le prime live vi avviso e niente ciao